Si è svolta domenica 23 maggio presso la sede del gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco Carrino di Brindisi la cerimonia di chiusura del diciannovesimo corso di cannottaggio. Il corso, destinato sia agli under 18 che agli adulti, si è svolto durante le scorse settimane grazie alla guida dell'allenatore Antonio Coppola. La manifestazione di domenica scorsa è stata l'occasione in cui gli allievi hanno effettuato una dimostrazione di ciò che hanno imparato durante il corso. Dai primi movimenti in vasca di voga, le discese in barca, alla presenza, seppur il numero ristretto, dei propri genitori. Alla cerimonia erano presenti, oltre all'allenatore Antonio Coppola, gli atleti già facente parte del gruppo sportivo. Assente per causa di forze maggiore, invece il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Giulio Capuano. Un po' di vento sembrava poter precludere la possibilità di effettuare la dimostrazione in barca, ma l'esperienza che i corsisti hanno maturato ha comunque permesso loro di effettuare una discesa in barca senza alcun problema. Soddisfatto alla termine dell'evento, l'allenatore Antonio Coppola, che ha affermato «Sono contento del lavoro fatto nelle scorse settimane da parte di tutti gli atleti e oggi se ne è visto il risultato». «Sono contento del lavoro fatto nelle scorse settimane da parte di tutti gli atleti e oggi se ne è visto il risultato». «Sono contento del lavoro fatto nelle scorse settimane da parte di tutti gli atleti e oggi se ne è visto il risultato».